Innanzitutto perché è una femminista, militante e di pensiero, che si batte da sempre per i diritti delle donne e mette al centro l'autodeterminazione come pratica politica. Lo fa nel quotidiano e lo fa nelle istituzioni, lo fa con le parole e lo fa con i fatti. È uno sguardo femminista, apre possibilità per tutti. In secondo luogo perché è una donna giovane, preparata, competente, che ha fatto delle lotte sociali in centro della sua vita, sempre al bianco delle donne, sempre dalla parte dei lavoratori, dei precari, dei migranti, contro le ingiustizie sociali, contro le politiche di austerità, contro le derive nazionaliste e razziste, contro chi alza i muri e chiude le frontiere. Mai come oggi l'Europa ha bisogno di uno sguardo accogliente. Mai come oggi l'Europa ha bisogno di corpi, menti e cuori che aprano al confronto e allo scambio. Per un'altra Europa, l'unica possibile. Per questo Eleonora Forenza è la mia Presidente.